Il pappagallo raffigurato nei dipinti come per esempio quello di Paolina Adorno Bregnole Sale rappresenta un simbolo di purezza, di delicatezza, di innocenza e anche rappresenta lo status symbol del committente trattandosi di un animale esotico, raro e quindi costoso. I pappagalli sono un ordine di uccelli, gli psittaciformi, diffusi in tutte le fasce tropicali sub-tropicali del nostro pianeta. Qui al Museo di Storia Naturale nella sezione espositiva dedicata agli uccelli abbiamo una buona rappresentanza di questi animali esotici ma presenti anche nei cieli della nostra città. Ogni tanto li vediamo solcare appunto il cielo con il loro classico richiamo delle frecce verdi nei nostri cieli.